Altra vittoria ragazzi, un po' più sofferta del solito e quindi sembra quasi una sconfitta, in realtà abbiamo vinto ragazzi, tranquilli no, perché tra la telecronaca e un po' di ansia che non siamo più abituati ad avere, sembrava quasi una partita complicata o che fossimo sotto, no, perché abbiamo giocato con grande grinta, grande voglia e quasi non accettavamo di essere 2-1, si voleva andare al 3-1, il 4-1, no, e quindi, però in realtà abbiamo vinto, abbiamo vinto ragazzi, tre punti anche questo giro, certo le cose non sono andate perfettamente, diciamo così, non è stato tutto perfetto, tatticamente secondo me un po' di problemi ce li abbiamo avuti, poi grande onore al Genoa che ha dato tutto sul campo, che ha giocato con tutta la grinta possibile, però insomma non è bastato, l'Inter è comunque superiore e alla fine andiamo sempre spediti verso la meta dello scudetto. Ragazzi, poi ovviamente ci vediamo su Twitch per analisi un po' più approfondite, verso le 23.45, insomma in live, però, cosa dire di questa partita? Allora, la prima cosa che voglio dire ragazzi, arbitro allucinante, pessima performance, sapete che non ne parlo praticamente mai, ma oggi insomma lo volevo dire, pessimo, veramente pessimo arbitro in questa partita. Detto questo, che comunque non c'entra niente, non è che questo voglio dire risultato, non ha inciso, eccetera, però comunque pessima conduzione. Per quanto riguarda la partita invece dell'Inter, perché dico un po' problematica, non mi è piaciuta tatticamente, perché soprattutto due cose abbiamo pagato, soprattutto il primo tempo, soprattutto il primo tempo non mi è piaciuto molto in realtà, anche se abbiamo dovuto 2-0, ma appunto l'analisi va a prescindere dal risultato. Perché? Perché non mi è piaciuto? Perché al primo tempo spazi molto bloccati e abbiamo anche rischiato di andare sotto in una o due occasioni, poi in realtà hanno fatto gol loro nel secondo tempo, però la partita in realtà è stata tutta complicata e anche il primo tempo, ancora di più forse, no? Si è visto proprio quello che non funzionava dell'Inter oggi, cioè noi grande superiorità a sinistra, con Carlos Augusto, come detto, nel pre-partita che non era seguito da Retteghi, infatti tante volte Carlos Augusto ha potuto spingersi in avanti, abbiamo attaccato con Mkhitaryan, Di Marco, Carlos Augusto anche nel secondo tempo, poi con grande facilità dalla sinistra, non siamo riusciti al 100% a sfruttare questa superiorità purtroppo, Genoa molto basso e compatto, nel primo tempo chiaramente con il risultato anche in bilico e poi nel secondo tempo si sono avventurati in avanti dovendo recuperarlo il risultato, però ecco quello che ci è mancato nel primo tempo è stato un po' di peso in area, non tanto solo per avere la presenza dentro l'area, ma anche per allungare questo Genoa che era molto compatto e non ci dava spazi, non avevamo spazi sulla tre quarti, sia in centro sia sull'esterno, perché noi consentivamo al Genoa di stare compatto, di essere molto compatto tra le linee, perché? Perché facevamo tantissimi movimenti, anzi facevamo solo movimenti incontro con gli attaccanti, quindi sia con Lautaro e poi anche con Sanchez giustamente, visto che nessuno dei due è una vera prima punta, quest'anno Lautaro sta giocando come avrebbe sempre dovuto giocare, cioè raccordando, il punto è che anche Sanchez è uno che raccorda e mancava chi invece teneva la linea, chi invece dettava la profondità, chi invece dava peso in area, occupava, dava il pensiero diciamo così avanzato ai difensori, allungandoli un pelo, magari appoggiandosi sul centrale del Genoa, che è quello più in profondità, e quindi obbligando un braccetto a raddoppiare, scalando anche lui, e questo ci avrebbe potuto dare spazi in mezzo, invece con entrambi gli attaccanti accorciavamo e la difesa del Genoa poteva alzarsi, poteva mettere pressione e togliere spazio sulla tre quarti, che infatti era molto 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 intasata, e oltre a questo, questo è il primo problema tattico, se vogliamo anche un po' di formazione, Sanchez con Lautaro ha giocato bene Sanchez, ha grande qualità eccetera, ma era un problema non tecnico ma tattico questo, e la seconda cosa che ho notato, che non mi è piaciuto per nulla come è stato sfruttato Dunfries, anzi come non è stato sfruttato, questo è un peccato perché Dunfries poteva avere un gran mismatch su quella fascia lì, come dicevano per partita con Marti, che è un giocatore che non ha né gamba né peso fisicamente, insomma poteva essere messo in difficoltà, invece l'Inter non l'ha sfruttato mai Dunfries, di fatto interpretandolo come se fosse Darmian, avete visto sicuramente nel primo tempo che molte volte Pavard saliva ogni volta come se ci fosse Darmian, ok? Che ovvio che se c'è Darmian, Darmian non va in avanti, non spinge, non punta l'uomo, e quindi c'è bisogno di portare un uomo in più davanti che Pavard ha dietro, perché Darmian non lo fa e non lo può fare. Ma se c'è Dunfries, fallo fare a Dunfries, che è la cosa più efficiente e più semplice, perché portare in avanti la sovrapposizione interna del braccetto è comunque una complicazione, è efficace ma è una complicazione. Se invece quel lavoro lo può fare tranquillamente l'esterno, andando uno contro uno con l'altro esterno avversario, è più semplice e magari è più efficace se hai Dunfries che può mettere in difficoltà Aaron Martin. Invece no, saliva sempre Pavard, come se ci fosse Darmian, e quindi Dunfries ogni volta doveva scalare indietro, doveva fare il Darmian, appoggiare dietro e non poteva portare la sua gamba, il peso offensivo, il mismatch fisico con Aaron Martin a compimento, diciamo così. E questo è un peccato, anche perché in questo modo hai intasato ancora di più la tre quarti, perché Pavard si spingeva in avanti, Dunfries doveva scalare indietro, però Pavard non era in avanti esterno, ma Pavard era in avanti, ma internamente si ingolfava ancora di più la cosa e l'Inter spesso non trovava margini, non trovava buchi. Non è un caso che l'Inter ha sbloccato la partita come? Con due, non dico episodi, però con due giocate un po' naive, un po' sporadiche, no? Due inserimenti di fatto, diciamo, eccezionali, particolari, ecco, dati da degli errori un po' del Genoa in possesso palla recuperata da noi e poi grandissimo tiki-tac verticale, veramente molto fluido nel caso di Aslani che fa un ottimo inserimento, ma è una situazione sporadica, diciamo così, eccezionale, da circostanze, diciamo così, e poi questo inserimento di Barella che siamo riusciti a trovare, ok, ma sono due giocate sporadiche. E secondo me, in un certo senso, questi due gol, venuti in maniera un po', diciamo, cercata con qualità, ma non tatticamente come era stata, cioè, non una cosa preparata, diciamo così, ma due circostanze, hanno un po' messo il salame, insomma, negli occhi dell'Inter facendoci pensare che, ah, va, è tutto perfetto. In realtà il problema tattico è rimasto, poi, anche dopo, anche all'inizio del secondo tempo, e infatti poi l'abbiamo pagata, perché, secondo me, abbiamo, la partita si è aperta completamente, abbiamo cambiato però Dumfries, che sarebbe stato magari più utile con la partita aperta, invece abbiamo messo Darmian, ovviamente Dumfries ha monito, invenzione totale dell'arbitro, come anche per Lautaro Martinez, due gialli completamente inventati dall'arbitro, secondo me sia per Dumfries, che è stato appunto sostituito per quel giallo, e poi per Lautaro Martinez, che non ha protestato, è stato un santo Lautaro Martinez, ma un giallo veramente, anche là, incomprensibile, dicevo, quindi, la partita è stata un po' così, non letta benissimo, secondo me, e nel secondo tempo, infatti, è stata molto complicata, proprio perché il problema tattico è in parte rimasto, in più il Genoa ha provato a buttarsi in avanti, partita rotta, diciamo così, è partita quando è, la partita è rotta, va un po', ha grinta, ha motivazioni, ha giocati individuali, ha rimpalli, ha cose sporche, perché quando la partita è rotta così sarebbe servito un frattesi, ecco, forse nel secondo tempo, invece è fuori un po' per infortunio, no? E che dire, ragazzi, il gol preso, ecco, una cosa sul gol preso da noi, ecco, un peccato per il clean sheet di Sonberg, che ormai è abituato, e Aslani, ragazzi, ha perso una palla tremenda, Darmian, poi, non ha vinto il contrasto aereo, forse con un Dumfries, chissà, però, insomma, non ha vinto il contrasto aereo, palla, quindi, poi, che viene carambolata da De Vrij, poi fuori, e Mkhitaryan e Aslani, forse un po' stanchi, non sono riusciti ad andare in pressione sul Vasquez, che ha trovato un buon angolo sul tiro. Che dire, ragazzi, invece, sui singoli? Allora, Aslani, grande gol, grande tecnica, bene in impostazione, a livello di come si muove tutto, però, continuo a ripeterlo, ha grandi potenzialità, margini, però deve ancora molto crescere, oggi, forse anche complice il gol, si è un po' gasato, ha cominciato poi a strafare, a osare veramente troppo, ha perso 3-4 palloni lancinanti in mezzo al campo, e l'abbiamo pagata una volta con un gol, di fatto parte un po' da un suo errore, poi si innestrano anche altre cose, però parte da un suo errore, e anche altri pericoli sono venuti sempre da palloni persi, da Aslani, in posizioni nevralgiche, secondo me, ha fatto il gol, molto bello, molto bello, però poi si è un po' gasato, ha perso un po' la testa, invece, invece, De Vrij, ragazzi, spaziale, su Gudmundson, al 43esimo, mi è piaciuto tantissimo, è un giocatore ritrovato, per fortuna, De Vrij, da un bel po' di tempo, e comunque è un gran difensore, ragazzi, Barella mi è piaciuto tantissimo, ha tutto campo, ha fatto di tutto, ha corso un sacco, si è sacrificato, ha tenuto botta fino all'ultimo, veramente giocatore, che sta facendo delle performance, una dietro l'altra, molto importanti, in questi ultimi tempi, e Carlos Augusto, ragazzi, menzione d'onore, perché ha fatto una partita sulla sinistra, sia difesa, sia come quinto, spaziale, veramente, dominatore assoluto, di quella fascia lì, è mancato invece, un po' di gamba, forse, di Marco, nel primo tempo, diciamo così, e in generale, però, c'era quel problema tattico, per quanto, mi sia piaciuto molto Sanchez, quando è entrato Arnautovic, e anche Turam, pur non al meglio, non sta ancora bene, però, quando sono entrati Arnautovic, e Turam, la partita, secondo me, lì davanti, ha cambiato un attimo, aspetto, abbiamo avuto un po' più di profondità, un po' più di fisico, anche per tenere sulla palla, il peso che c'era, di questi due giocatori, ha allungato un po' la squadra, ci è mancato un po' di fiato, al centrocampo, che non è uscito nessuno di tre, e poi, c'è mancato Dumfries, sulla fascia destra, perché altrimenti, con quella coppia lì davanti, nel secondo tempo, avremmo potuto anche, nel senso, chiudere la partita completamente, perché veramente, davanti abbiamo cambiato molto, l'aspetto, ed è, si è visto proprio, nell'aspetto tattico, anche in campo, peccato non averli potuti supportare, questi due attaccanti, per il centrocampo stanco, e l'assenza di Dumfries, avremmo, come dicevamo, per partita, avremmo dovuto utilizzare, in maniera diversa, Dumfries, e iniziare con Arnautovic, forse, al posto di Sanchez, nonostante abbia fatto, una buona partita, e questo dimostra, come, per quanto abbia fatto, bene Sanchez, tecnico, poi, l'aspetto tattico, è importante, quindi tu puoi avere anche, un giocatore tecnicamente bravo, a meno che non sia un fenomeno, che, va oltre, qualsiasi cosa, tipo Messi, robe così, l'aspetto tattico, è importante, cioè, avere un giocatore, sì tecnico, ma funzionale, per quello che ti serve, in questa, nella partita, nell'organizzazione, nel sistema, è molto importante, quindi avrei forse preferito, Arnautovic dall'inizio, come dicevo, nel pre partita, non lo dico col post, col senso di poi, lo dico col senso di prima, e, insomma, secondo me, si è visto in campo, questo, questo problemino qua, abbiamo dato la partita, diciamo, ci siamo complicati un po' la vita, abbiamo dovuto giocare, in maniera molto complicata, cercando dei ritmi, molto alti, proprio perché, nel primo tempo, eravamo intasati, sul campo, e, e, e la partita è stata molto, molto rognosa, poi si è riaperta, eccetera, eccetera, questa è un po' l'analisi, mia del post partita, comunque, oh ragazzi, altri tre punti, l'Inter, che comunque, complicandosi un po' la vita, è superiore, c'è poco da fare, anche per i giocatori in campo, e siamo riusciti a portarla a casa, in ogni, in ogni caso, ragazzi, vi saluto, ci vediamo poi, fra poco, sul, in live, su Twitch, per il post partita, aggiuntivo, diciamo così, e domani ovviamente, con le pagelle, come sempre, ciao ragazzi, vi saluto, forza Inter!